Musica Di nuovo bentrovati con la nostra rubrica Cuore Vivo in collaborazione con l'omonima associazione. Oggi in particolare parleremo di una patologia chiamata la malattia silente, il diabete, chiamata così perché purtroppo non dà sintomi se non quando è ormai arrivato a uno stadio conclamato. Per parlarci meglio di questa patologia, soprattutto per raccontarci anche quanto sia diffusa, ma ovviamente per parlare anche di prevenzione di quelle che sono le più moderne terapie, e siamo in compagnia della dottoressa Elena Tortato, benvenuta, direttore della Diabetologia dell'Irca di Ancona. Di nuovo bentrovata, grazie per essere con noi. Grazie. Dunque allora dottoressa, vediamo innanzitutto molto velocemente, abbiamo detto la malattia silente, intanto quindi parliamo del diabete. Vediamo velocemente che cos'è, di che cosa si tratta e soprattutto quanto è diffusa questa patologia. Allora, con il termine diabete si identifica una serie di patologie del metabolismo che hanno in comune l'incapacità da parte dell'organismo di mantenere valori normali di glucosa nel sangue, dovuti a una carenza dell'ormone insulina oppure all'incapacità da parte dei tessuti di utilizzare bene l'insulina. Abbiamo vari tipi di diabete, il più frequente è il diabete tipo 2, il diabete dell'adulto che insorge dopo i 40 anni, che si associa spesso a sovrappeso, obesità, ipertensione arteriosa e dislipidemia, e costituisce il 90% di tutte le forme di diabete e il diabete tipo 1, che invece è del bambino, del giovane, che è caratterizzato da una carenza totale di insulina e quindi necessita di insulina abita. Quanto è diffuso? È una delle patologie croniche più diffuse. Negli ultimi 20 anni si è triplicato il numero, a livello mondiale si contano circa 400 milioni di persone con diabete, in Italia circa 3 milioni, 3 milioni e mezzo, più, come diceva giustamente lei, una malattia silente, quindi si stima un milione, un milione e mezzo che ha sicuramente la patologia, ma non sa di averla. Nelle marche diciamo che la prevalenza è in linea con i dati nazionali, quindi circa un 5%, quindi nelle marche si contano all'incirca 70 mila pazienti con diabete. Ecco, quindi cerchiamo anche di capire quanto è importante fare diagnosi, quanto è importante soprattutto fare una diagnosi precoce, soprattutto perché, come abbiamo detto, è una malattia che non dà sintomi, se non purtroppo quando è già uno stadio avanzato. Sì, come dice lei, giustamente è importante fare una diagnosi precoce, la diagnosi è semplicissima, perché basta fare una misurazione della glicemia, se in due esami differenti la glicemia è uguale o superiore a 126, già la diagnosi è confermata. Oppure una misurazione dell'emoglobina glicata, che è la percentuale di emoglobina che si lega al glucosio, se è superiore a 6,5% o al 6,5% già facciamo diagnosi di diabete. Quindi va ricercato, va ricercato soprattutto nei soggetti a rischio, al maggior rischio, quindi una glicemia all'anno va comunque fatta. C'è un'età da cui sarebbe bene appunto sottoporsi a questo test, diffuso peraltro anche nelle farmacie, quindi è veramente molto semplice da fare. C'è un'età appunto in cui è preferibile cominciare a fare uno screening, diciamo, costante nel tempo? Certo, sicuramente dopo i 40-45 anni è l'età dove è massima l'incidenza, e quindi va ricercata a quell'età lì, anche se il diabete tipo 2 purtroppo in questi ultimi anni ha aumentato anche la sua frequenza, anche nei bambini, soprattutto i bambini in sovrappeso obesi. Dottoressa, in questa rubrica noi ci concentriamo ovviamente su quella che è poi anche la salute del nostro cuore, che lo vediamo, adesso lei ce lo racconterà, purtroppo può essere anche ostacolata da patologie diverse. Ovviamente quindi noi oggi parlando di diabete cercheremo anche di capire quelle che possono essere le conseguenze legate alla salute del nostro cuore per chi ovviamente soffre di questa patologia. Diamo però anche una visione più ampia, quindi quali sono in generale le conseguenze per chi soffre di diabete? Allora, se l'iperglicemia non viene prontamente trattata, arreca i danni ai piccoli e ai grandi vasi, quindi le conseguenze sono ubiquitari, colpiscono tutti gli organi, in particolare la retina, quindi la retinopatia diabetica che può portare a cecità, il rene con la nefropatia e l'insufficienza renale, le terminazioni nervose può dare una riduzione della sensibilità soprattutto agli arti inferiori ai piedi, con conseguente magari lessione e comparsa di piede diabetico, e i grandi vasi, quindi l'insorgenza di malattie cardiovascolari. E quindi vediamo quali sono anche le relazioni che legano il cuore, la salute del cuore al diabete. Allora, qui le relazioni sono molto strette purtroppo, perché il soggetto diabetico rischia di andare incontro a un evento cardiovascolare che è dai due a quattro volte più frequente rispetto a chi il diabete non ce l'ha. Inoltre, la maggior parte dei pazienti con cardiopatia, quindi più del 50% dei pazienti con cardiopatia, hanno o un diabete manifesto o un'alterata glicemia di giuno o una ridotta metabolismo del glucosio. E capite come sono legate insieme queste due patologie, perché appunto l'iperglicemia reca danni alla circolazione, quindi alle coronarie. E inoltre, una delle più frequenti cause di ospedalizzazione del paziente diabetico è proprio lo scompenso cardiaco. Quindi sono molto legate e strette. Quindi la nostra sfida adesso non è tanto trattare la patologia conclamata, quanto fare diagnosi precoce e trattare prontamente per evitare queste complicanze e per permettere al paziente di vivere una vita sia in termini di qualità di vita pari a chi il diabete non ce l'ha. Vediamo anche però, lo abbiamo anticipato all'inizio puntata, quelle che sono le terapie e soprattutto le novità terapeutiche. Fortunatamente in questi ultimi anni abbiamo avuto una rivoluzione del campo proprio della terapia del diabete, sono usciti dei farmaci innovativi che non solo abbassano, perché ovviamente il farmaco per il diabete ha come scopo quello di ridurre la glicemia, ma non solo riducono la glicemia, ma hanno dimostrato ad avere effetti diretti, protettivi, cardiovascolari. E questo cambia di molto la prospettiva della terapia del diabete, cambia di molto anche la prognosi del diabete e gli essuti futuri del diabete. Ecco, quindi diciamo anche le modalità con cui si può imparare, si deve soprattutto imparare a convivere con questa patologia. Certo, e questi sono farmaci, soprattutto sono due classi di farmaci, sono i farmaci l'encretino, GLP-1, che sono farmaci che sono iniettivi e si danno una volta al giorno, una volta a settimana, oppure le glifosine o SGLT2 inibitori, che sono dei glicosurici, che ci fanno eliminare con le urine lo zucchero, quindi si perde anche peso. Inoltre, appunto, questi farmaci, soprattutto questi ultimi, hanno ridotto l'ospedalizzazione per scompenso cardiaco, hanno ridotto la mortalità per tutte le cause e anche la progressione della malattia renale, perché spesso la malattia renale si lega alla malattia cardiaca. Quindi sono veramente dei farmaci innovativi che possono, come dicevo prima, cambiare proprio la proniosi del paziente. Perché oggi, ripeto, noi dobbiamo fare in modo, l'obiettivo nostro, la nostra sfida è quella di assicurare al paziente diabetico una quantità e una qualità di vita pari a chi il diabete non ce l'ha. Dottoressa, siamo quasi in chiusura, però abbiamo ancora qualche minuto, quindi è chiaro che è importante parlare, come abbiamo fatto, di quelle che possono essere le conseguenze per chi soffre di questa patologia, quelle che sono le terapie e soprattutto le novità che appunto consentono di migliorare anche la qualità della vita dei pazienti. Però è chiaro che lei prima parlava di comportamenti che possono essere rischiosi e quindi è importante anche parlare di prevenzione. Ecco, in particolare, quindi, quali sono, volevo chiederle, questi comportamenti rischiosi, quali le brutte abitudini da abbandonare o da evitare? Allora, ovviamente i pilastri di una corretta gestione del diabete, ma anche del prediabete, sono la corretta alimentazione, sono l'attività fisica. Nel momento in cui si ha la patologia, la consapevolezza di essere diabetico e sapere e conoscere la patologia per gestirla meglio e poi soprattutto l'aderenza alla terapia, che è fondamentale, perché adesso abbiamo questi nuovi farmaci, ma bisogna essere anche aderenti. Quindi, io penso, questo è il mio messaggio, che dal diabete non si guarisce perché è una malattia cronica, però oggi è possibile convivere serenamente con questa patologia a patto di impegnarsi, cioè il paziente ogni giorno si deve impegnare nella cura della propria salute, quindi rispettare i tempi, le visite che vanno eseguite regolarmente e eventualmente gli esami richiesti. Quindi ci vuole un impegno anche da parte del paziente, oltre che del medico. Ovviamente perseguire costantemente questi pazienti. Ovviamente poi ricordiamo che corretti stili di vita vanno adottati sempre, io lo ricordo, al di là di chi soffre magari di patologie, però prevenire è sempre meglio che curare. Ci dobbiamo fermare, ma io davvero la ringrazio per essere stata con noi e per i suoi consigli, quindi ringrazio la dottoressa Renato Ortato, direttore della Diabetologia dell'Erica di Ancona. Grazie davvero. Grazie a voi. Noi ci fermiamo qua, io vi ricordo che potete seguire tutte le puntate anche direttamente dalla pagina Facebook di Etv Mark e dell'associazione. Quindi grazie ancora una volta per essere stati con noi e arrivederci alla prossima puntata. Grazie a tutti.